Sì, Fratelli d'Italia oggi scende in piazza qua davanti alla come il commercio per dire no al coprifuoco. Il coprifuoco fino al 31 luglio sarebbe veramente la tomba di tutte le attività turistiche e commerciali annesse al settore turismo. Non possiamo regalare il nostro patrimonio al settore turistico a Pachiole, al settore turistico greco. Abbiamo veramente bisogno di risollevare questo settore dopo un anno di fermo. Siamo qua davanti alla Camera di Commercio oggi veramente per dare un segnale importante, ma la prossima volta purtroppo se continuiamo così e soprattutto con questo coprifuoco saremo qua ad accompagnare i ristoratori, i bar e tutte le attività d'arriere per depositare le licenze perché si parla veramente di chiusura. Siamo veramente stanchi di questa politica scellerata del governo Draghi, targato Draghi Speranza. Veramente non si può andare più avanti. Grazie a tutti.